Buonasera a tutti voi che siete qui al teatro, buonasera a coloro che si trovano a casa e ci seguono in live streaming. Questo luogo è un luogo in cui le arti si incontrano, in particolar modo è la danza che incontra le arti, mentre questa volta sarà il teatro che incontra lo sport. Quello che vedete adesso sarà un estratto di gendarmi e ladri, gli attori che saliranno sul palco sono Faustino Blanchut ed Enrico Ferretti. Dopodiché ci sarà un dibattito moderato da Gianfranco Dionisio che ieri sera si è esibito brillantemente su questo palco. Vi ringrazio e a più tardi. Grazie. 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 Che coincidenza. Che coincidenza! Che coincidenza! L'uomo ha sempre giocato. Poi ha inventato le regole. E poi ha inventato lo sport. Che coincidenza! Bene, possiamo iniziare la nostra missione. La nostra analisi sui valori etici, morali e sociali dello sport. Bene, possiamo iniziare la nostra missione sui valori eiche e sociali del sport. Attenzione! Preparatevi per la partenza! 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 La partenza! Preparatevi per la partenza e scegliere in emotivo All'epoca ero uno sportivo professionista ed ero bravissimo ad umiliare i miei avversari. Era uno sportivo professionista? Certo. Ma anch'io ero sportivo professionista. Che coincidenza! Dopo la mia carriera sportiva mi sono diplomato come maestro di ginnastica con il massimo dei punti. Nel pinball. Intende professore di educazione fisica e sportiva? Se preferisci. No, perché anch'io sono diventato un professore di educazione fisica e sportiva. Che coincidenza! Cambiamo campo? Cambiamo campo. La pala, per favore. Io mi sono laureato con il massimo dei punti nell'analisi del movimento cellulare all'interno del pancreas durante lo slancio che precede il salto in alto. Intende la fisiologia? Se preferisce. Non la trovo. La fisiologia? No, la pala. Forse è caduta nel pubblico. No, trovata. Il servizio. Pronto? Pronto. Pronto. Doping. Puff. Doping. Doping. giusta, 16 centimetri definiti e omologati dal comitato olimpico delle arrette di tenistagolo per il mondo interno. Se lei ha perso, perché lei l'ha perso, perché sono stato molto più bravo ad usare i muscoli dell'avambraccio e del braccio per combattere le forze di attrito della mia racchetta e dare ottime traiettorie alle mie paline. Bene, ho perso, ho perso, ma andiamo a togliere la rete e allora il versaglio non sarà più un tavolo da pimpò, ma il corpo dell'avversario. Grazie a tutti. Non, non, calma-te, calma-te, rilassati, rilassati, è troppo nervoso, troppo agitato, allora immagina... Immagina che fa freddo e che cade la neve, e la neve ti calma, ti rilassa, distende i tuoi tendini, i muscoli, il plesso solare, il bacino, le ginocchia, il cammino... Ma no, non devi addormentarti prima della gara, allora immagina che la sedia è vuota. La sedia è vuota. No, immagina che l'avversario ti ha rubato dei soldi. E' il fair play, allora. Capisco che magari non è così facile guadagnarsi la vita soltanto con lo stipendio dello sport di combattimento, ma attenzione a non il nervosismo dell'avversario di barriera. No, prima round, prima round, tu entri. Tu entri, ma c'est già pas mal. Tu laisses gagner. Tactica, tactica. Le deuxième round, tu rentres aussi. E' solo a la fin du deuxième round, tu fais exprès de paire. Le troisième e quatrième round, tu les perds aussi. Tactica, tactica. Così lui ti s'autostima, pensa che sei degore, che sei, che tu es nul, il te sous-estime, il baisse les bras, il pensa che sei graffè miluccia. Come ça, dans le cinquième round, alors là, tu entri e tu... E tu... E vivi, non? Vinci, si, vinci, vinci. Vinci tutti i punti di sutura e come sei un po' demoralisere. Moi, je te donne un po' de grappa, pour te remonter le moral. Doping, la grappa? Ma non, dal 2018, l'alcol non è più doping. Revigoré par le doping, non, revigoré par l'alcol, tu rentres dans le sixième round e tu me la plug dans la corde. E allora là, ti va, ti va, 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 va! E va, don't go, mi vado. Vai assederti perché la vlei pezzo è un, che è il sesto round. Bon, le septième, tu te couches par terre. Come un crèpe? Come un crèpe. Je veux entendre les mouches voler. Le mitième round, tu pars en courant, très loin. Le neuvième, tu te caches. Ascidera? Voilà, cache, cache-toi bien. Bon, et puis, le deuxième round, c'est moi qui rentre. No, parlo con l'arbitro, parlo con l'altro allenatore, insomma, troviamo un... Beh, ti vediamo? Mi devi già sencombal, dunque, un vero. Buon divertimento. E non dimenticare che l'importante non è vincere, ma partecipare. No, no, ho ancora perso. Che coincidenza. Non bisogna piangere, è il perple allora. Ma venga a versi un goccio. È dura, è dura perdere, è dura, è crudele, è perdere tutto solo, è ancora più dura, più terribile, più crudele. Eh, appunto, non ha mai pensato di perdere in squadra? Di giocare in squadra? Perché? Gli sport di squadra sono socializzanti? Certo, molto socializzanti, anche inclusivi. Venga a giocare nella mia squadra. Lei gioca a un buon livello? Certo, abbia fiducia. Allo spirito di squadra? Allo spirito di squadra? Bene, in qualità di presidente del club sono molto contento, molto lieto e vorrei, prima di tutto, ringraziarvi di essere venuti. Malgrado il contesto internazionale di preoccupazione e malgrado il brutto tempo, speriamo che non riprenda nevicare. Oggi sono molto lieto di accogliervi per la finale del campionato, evento molto importante, visto che è la finale del campionato. Avremo stasera due squadre. Due squadre che si affronteranno per vincere il titolo dell'anno. Allora, la squadra rossa che ha già vinto le nove ultime finale del campionato, affronterà la squadra bianca che malgrado le sue 29 partecipazioni non è mai riuscita a farle anche. Allora, prima di iniziare la partita, vorrei lasciare la parola alla persona più importante per il buon svolgimento della partita e per il rispetto delle regole. Grazie, grazie, grazie. Abbiamo un piccolo cambiamento di programma. Ragazzi, non fate i furbi con me. Niente buchi nel campo. Togliete le scarpe, prima di entrare allo spogliatoio e guai a chi piscia nelle docce. E ora lo vedrete l'arbitro. Ve lo dico subito. Non approfittate del fatto che sono una donna per essere più intransigente, per essere più intransigente con le regole e non essere cattivi sul terreno di gioco. Avete sentito l'arbitro? L'altro arbitro, il direttore del club. Ma a causa del brutto tempo non sarà possibile l'arbitraggio video e sarò quindi l'unica responsabile nel dare i cartoncini gialli e i cartoncini rossi. E vorrei informarvi che quest'anno ho già dato 92 cartoncini rossi. Sarò intransigente. Bene, lascio adesso la parola al numero 2 della FIFA che ha fatto apposta lo spostamento da Zurigo. Grazie. 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 Non c'è bisogno di nessun regio per presentare la FIFA. Noi siamo un organismo che raggruppa più paesi dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Noi ricordiamo più tolleranza, più pace, più benessere di qualsiasi altra organizzazione politica non governativa o religiosa al mondo. Noi siamo dei simboli di pace, di benessere, di fratellanza. E allora fate bene a salutare con grande, grande entusiasmo la FIFA. A rivederci, 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 a rivederci. E ora voglio notare la parola al paio. Deseo che il partito di oggi sia come il Super Bowl di questo anno. Un esempio che è possibile iri più allà del proprio interesse personal. Il deporte e il Super Bowl non dimostrano che è possibile vivere in un mondo di paz, di amistà e di solidarietà. Per prima di cercare il partito, mi piace di dedicare un minuto di silenzio a tutte le flore, e a tutte le plantate e a tutti gli animali di questo pianeta. Grazie. Vorrei Compongo come Monsignore di questa bella regione di portare a due i minuti di silenzio. Così il Papa potrà benedire il pallone della partita, potrà benedire i minerali, i vegetali, potrà benedire anche gli animali. Così come ha benedetto il Super Bowl. Super Bowl come simbolo di pace, di tolleranza, come simbolo di amicizia. Super Bowl come simbolo di amicizia, ma soprattutto come simbolo di rispetto. E a proposito di rispetto, ragazzi, mi raccomando, durante la partita, niente parola... Bordè di merda, ragazzi! Bordè di merda, ragazzi! On è ici, chez nous! On è ici, chez nous! On joue, sul nostro terreno, con i colori, il nostro maio, il rouge, il sango, la traduzione! De quelle colori il maio? De quelle colori il maio? Eh, rosso, rosso sangue? Bon, siamo tutti dei grandi gassoni, qui ne ha più Giancarlo, qui ha ancora 11 anni. Quindi, siamo arrivati sul terreno e vi mostrerà tutto ciò che abbiamo avuto da prima settimana. C'est-à dire, agressività il maximum, solidarietà, per Papa. Ma solo per ecraser l'adversario, sin animo! Agrientare, demolire, distruggere, asfaltare! Vous avez entendu l'arbitre? Pas d'arbitrage vidéo, l'arbitra è in panne. Qu'est-ce qu'on fait alors? On se profile discrètement, quand personne ne regarde derrière l'adversario, et aïe, on mord! Aïe, aïe, aïe! On va arrêter di touchare le roux mignone, et on va se sortir les doigts du cul! Traduzione! Giocare aggressivi, ragazzi, molto, molto aggressivi! Se sortir les doigts du cul! Togliere la palla del culo? Voilà! Togliere la palla del culo! Bene! Ragazzi, 4-0 dopo il primo tempo, i russi hanno iniziato con una contro-comunicazione piuttosto violenta! Vediamo cosa dice il vostro allenatore che sta arrivando! Bene, ragazzi, avete visto che ha ripreso a nevicare, magari questa è la nostra fortuna, noi, squadra bianca, potremo camuffarci nella neve! Approfitto di questo momento di pausa per ricordarvi due punti essenziali. non lasciarti prendere dalla neve! Allora, il gioco non è la somma di passaggi e di tiri, ma i tiri! E il risultato di una comunicazione complessa e dinamica! La smettiamo quindi per favore con i gestemi troppo evidenti! Quando volete la palla, non state immobili con la mano in aria! Quando non sapete cosa fare, non rimanete con le braccia a penzoloni! Usiamo per favore dei prassemi più complessi, come per esempio la chiamata, la contra-chiamata, la finta di passaggio, la corsetta indietro, il passaggio indietro, la finta di tiro e la corsa di appoggio! La contra-corsa di appoggio! Lei l'ha corsetta incruciata all'attacco! E il contra-attacco! E si ricomincia! State attenti alla metacomunicazione! Ragazzi, ricordatevi gli allenamenti in situazioni difficili per elaborare l'informazione sbattete fortemente le ciglia e dopo lanciatevi in un tuffo a capofitto e poi spostamento a pelle di coca e dopo spostamento a spazzaneve contro spostamento a spazzaneve e poi caloppo delle lieti e dopo corsa a palla di neve e poi preparatemi per il tiro! Io, ultimo degli undici giocatori della squadra bianca, intravedo nell'altra parte del terreno i tre attaccanti della squadra rossa palla il piede! Avanzo per mettere il mio corpo come ultima barricata tra loro e la sconfitta! Il primo sta preparando il suo tiro! Il corpo è violento ma riesco a rialzarmi! Il secondo tira anche lui! Il secondo tira anche lui! Caro collega, caro collega, per che si metta a sedere, devo dare una notizia, guardi, devo dirle che abbiamo perso, che coincidenza, dobbiamo provare uno sport di pure collaborazione. Uno, due, tre. Ma non si è tuffato? No, neanche lei si è tuffato. No, che coincidenza. E perché non si è tuffato? Non mi sono tuffato perché lei non si è tuffato. Se lei si fosse tuffato, mi sarei tuffato anche io. Bravo. Grazie. Se lei si fosse tuffato, sarebbe caduto tutto solo nell'acqua gelida. Al tre dobbiamo andare insieme. Sì, al tre, hop, si salta. E la nostra solidarietà vince la paura del freddo. Uno, due. Aspetti, aspetti. Buon chance. Merci. Uno, due, aspetti. 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 Hai ancora perso? Che coincidenza abbiamo perso perché ci siamo tuffati con le scarpe Le scarpe del compleanno non sono omologate per il tuffo sincronizzato Pensare che sono scarpe impermeabili Che hanno un rivestimento waterproof E noi avremmo dovuto toglierle Le togliamo E noi che abbiamo come missione quella di valorizzare lo sport contemporaneo Noi che pensiamo che il sport favorisca l'innovazione Favoriva l'immaginazione Che il sport favorisca la creatività Favoriva la fantasia Che il sport favorisca l'exclusione Favorisce la dominazione Che il sport favorisce l'égoismo Che il sport favorisce la soumission E allora protestiamo Contro lo sport e ha ragione Fulvio Ha ragione Fulvio Quando dice che lo sport ti prende Lo sport ti mastica E lo sport ti sputa E ti lascia da solo Sul marciapiede E allora noi protestiamo Contro lo sport Che non è socializzante E neanche educativo E scriviamo Alla federazione del tuffo sincronizzato Alla federazione del tennis tavolo Alla federazione del sport tuttutto E finita Punto exclamativo Punto exclamativo C'è finita Punto exclamativo Punto exclamativo Punto exclamativo E come simbolo De la nostra protesta Contro lo sport Mettiamo le scarpe del compleanno Nel anacolo E chiediamo che venga svolta Un'indagine contro lo sport Sono l'avvocato della federazione dello sport E nel mio ruolo di avvocato Della federazione dello sport Difenderò lo sport Fino alla mia morte Sono un gendarme anti-doping Sono un gendarme anti-corruzione Sono un gendarme anti-riciclagio Sono un gendarme anti-molestie Sono un gendarme anti-sport Sono sempre l'avvocato della federazione dello sport Sono dietro la mia scrivania E ordino i miei dossier Sono un gendarme anti-sport Sono dietro la porta E sto per suonare Mi chiedo chi sarà mai Scusa ma non vedi che sono io? Certo che vedi che sei tu Faccio finta di non vederlo Sto facendo il ruolo dell'avvocato Ah, rifacciamo Sono un gendarme anti-sport Ma lasciami il tempo di ordinare i miei dossier Sorprendimi in pieno lavoro Sono l'avvocato della federazione dello sport Sono dietro la mia scrivania E ordino i miei dossier Sono un gendarme anti-sport Sono dietro la porta e... Baravanna Ma che cosa fai? Mi hai detto sorprendimi E io ti sorprendo Sei sorpreso? Non hai capito niente Siediti Faccio io il tuo ruolo Sono l'avvocato della federazione dello sport Sono dietro una porta E sto per entrare Sono il gendarme anti-sport Vedo tutti i dossier dell'avvocato dello sport Ma che cosa farei nel mio, nel mio ufficio Senza mandato e con il mio capello Sono l'avvocato della federazione dello sport E questa è la mia scrivania E sto ordinando i miei dossier Sono il gendarme anti-sport Sono dietro la mia porta E sto per suonare il mio carillon Mi chiedo chi sarà mai Senti, la prossima volta ti suono tutta la melodia Così sai che sono io Sono l'avvocato della federazione dello sport Ed è meglio che distrugga tutti i miei dossier Sono il gendarme anti-sport Ed è meglio Ed è meglio che lo sorprenda In pieno lavoro Baravanna Sono qui con un mandato Sono qui con una pistola Sono qui per arrestarla Non voglio più giocare Aspetta, aspetti Negoziamo Va bene Negoziamo Ma la negoziazione si deve svolgere senza arma Bene, allora via tutte le armi Ma il giavolotto è un'arma Va bene, via il giavolotto Ma l'arco è un'arma Via l'arco Ma il fucile è da sparo è un'arma Va bene, via il fucile Il fioretto Il fioretto è un'arma Via il fioretto E la spada è un'arma La racchetta da tennis è un'arma Ma via la racchetta da tennis è un'arma Ma via la racchetta da borrancia è un'arma Ma la pistola è un'arma Allora via la pistola Negoziamo Mi dia Mi dia L'anabolizzante A18 La 18 ormai non si usa più da 30 anni Ma negoziamo Posso proporle sangue di ghepardo Sangue di ghepardo per i cento metri? I cento metri Si usa anche molto per il tennis tavolo Il sangue di ghepardo E dov'è il ghepardo? Dov'è il ghepardo? Una buona domanda La federazione del calcio Dopo di un viaggio in Sudafrica Hanno voluto scambiare il ghepardo Con un'altra federazione Adesso non Ho capito Avete fatto sparire un ghepardo Allora mi dia Mi dia il beta bloccante B24 Abbiamo esaurito tutto Con gli ultimi giochi olimpici Ma posso proporle Tendini di Achille del canguro Per il salto in lungo? Per il salto in lungo Per il tuffo sincronizzato E dov'è il canguro? Dov'è il canguro? Una buona domanda La federazione del palacanestro Dopo di un viaggio in Australia L'hanno cambiato con un ghepardo Ho capito Ho capito Avete fatto sparire anche un canguro Mi dia L'ormone della crescita numero Numero uno No Il numero due No Il numero trentatré Bravo Ecco Lo sapevo Il trentatré Mi dispiace Abbiamo usato tutto Per l'ultima competizione di Grele Però Posso proporle L'ultima mercia sul mercato Sperma di toro E dov'è il toro? E dove il toro è la federazione del rugby Dopo di un viaggio in Spagna Poi l'hanno cambiato L'hanno regalato a quelli del Super Bowl E poi insomma il toro Hanno fatto sparire anche un toro Porca vacca Dov'è il porco? Dov'è la vacca? Anche lei fa sparire degli animali Non voglio più giocare Ma no, aspetti Aspetti Non ha perso Non ha neanche vinto Ma non ha perso Concludiamo questa negoziazione Per concludere la negoziazione Ho una sorpresa per lei La federazione dello sport Che rappresento come avvocato Le regala una torta win-win Una torta vera? Certo, una torta vera Lo sport è una cosa seria Insegna a non prendersi gioco del suo avversario Può mangiarla da solo O facendo un atto di solidarietà Condividerla con il suo collega che sta arrivando Caro collega, caro collega Abbiamo vinto Abbiamo vinto? Certo Una torta win-win È stata offerta Piuttosto inaspettatamente Dalla federazione dello sport Torta win-win Offerta dalla federazione dello sport Con l'auspicio di eliminare In modo definitivo Tutte le nostre divergenze Con l'auspicio di non prendersi gioco del suo avversario Con l'auspicio di non prendersi gioco del suo avversario Con l'auspicio di non prendersi gioco del suo avversario sta facendo finta sta facendo finta che con uccidenza 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 che piacere essere qua al Teatro San Materno con gli ospiti, Daniela Scalia, lei è conduttrice, c'è Luca Guercilena che si siede qui, ha già perso la trebisonda perché è stato colpito dalla performance di Faustino e di Enrico, Fulvio Sulmoni e poi, l'abbiamo visto poco fa, Enrico Fernetti. Due parole brevi di contestualizzazione, anzitutto per presentare Daniela Scalia è ex atleta, poi allenatrice, formatrice, conduttrice televisiva Sport Italia, poi attrice, sceneggiatrice, Luca è l'uomo che è stato per anni in Mappei, una squadra ciclistica, è un po' colui che era dietro la rinascita di Cancellara, l'ha portato all'Oro di Rio nel 2016 ed era commissario tecnico della Nazionale Svizzera, da alcuni anni è il General Manager della Trek Segafredo, la squadra di Vincenzo Nibali, tra gli altri. Enrico Ferretti, attore ma anche formatore, ricercatore universitario proprio nell'ambito di cui si stiamo occupando, Fulvio è stato anche oggetto di un cambiamento del testo del teatro, che avete dedicato un passaggio, Fulvio Sulmoni è ex calciatore da poco, da pochissimo, ha giocato fino alla primavera scorsa e poi ha buttato fuori in un libro, un libro che è qui e che potrete anche trovare se lo desiderate all'uscita, a piacere di averti conosciuto, ha buttato fuori tutta la sua sofferenza e il suo malessere maturato in 15-17 anni di sport. Tutte bugie, perché lo sport è bellissimo, lo sport è edificante, è educativo. Sto scherzando. Io ho dato un piccolo compito ai quattro ospiti, però per iniziare, è di dirmi i due valori principali dello sport su entrambi i fronti, abbiamo capito che ci sono soprattutto coloro che hanno uno sguardo negativo, qui invece coloro che cercheranno di tenere su lo sport, i due aspetti positivi e le due criticità più dure, più evidenti. Non so, vogliamo ladies first? Daniela? Dal positivo o dal negativo? Io sono lato positivo, però faccio subito a gamba tesa, l'ho promesso a Enrico. Criticità. L'usannata e costante e creduta santità dello sport amatoriale. Lo sport amatoriale è un valore preziosissimo per la nostra società, lo sport amatoriale è anche un mondo nel quale si nascondono e si prosperano tante realtà di persone che cercano una rivalsa alle proprie frustrazioni, cercano delle situazioni di potere, cercano per quello che è stata anche la mia esperienza nel cantone, posizioni, posizioni per se stesse, posizioni per i propri connazionali, arrivando anche a delle situazioni piuttosto pesanti, gravi, addirittura minacce di morte, se vorrete poi ne parleremo. Dall'altra parte invece penso che lo sport anche in questo periodo possa dare alle persone adulte, parlo sempre anche per un'esperienza personale, un'occasione di nuova autostima, soprattutto nel rapporto sempre più difficile, sempre più lontano con i propri figli, i propri nipoti, quindi la possibilità di mettersi in gioco da adulti con uno sport, magari diverso da quello, anzi meglio se diverso da quello che si è fatto in gioventù, regalarsi una seconda adolescenza, puntare al divertimento, scegliere lo sport perché ci si diverte e non la corsetta perché è obbligatorio tenersi in forma, se non si punta sul divertimento lo sport diventa qualcosa di pesante, invece può diventare un modo veramente per cui i nostri figli, i nostri nipoti ci guardano come dei figli, come delle persone che si sanno mettere in gioco, che sanno trovare una via per comunicare anche con i ragazzi. Esperienza personale anche di allenamento di ottantenni che prima avevano i nipoti che li sopportavano e adesso vanno ad allenarsi insieme, è una cosa fighissima. Daniel io ti ringrazio perché mi dai una chance, quindi ci arrivo presto. Andiamo nel settore giovanile, sul fronte opposto, il più giovane qui in sala, Fulvio, le tue highlights positive, le luci, ammesso che tu riesca a vederne anche perché sei uscito comunque da un periodo molto duro, molto difficile e quali sono le cose che più trovi siano delle perle nel mondo dello sport? Ma ci sono appunto aspetti positivi, aspetti negativi, i due positivi che trovo sono sicuramente il fatto di fare sport dà un beneficio fisico, quindi stimola il nostro organismo e questo fa bene alla salute. Di positivo c'è anche la passione che è stata citata prima, sicuramente qualcosa di importante ed è anche della gioia perché si pratica magari uno sport che è la propria passione. Di negativo ci sono anche lì tanti aspetti che io ho vissuto in prima persona praticando lo sport professionistico, devo dire che oggigiorno purtroppo lo sport professionistico, io ho praticato il calcio, è molto ricco, ahimè, e questa grande ricchezza porta a dei conflitti di interesse enormi e questi conflitti di interesse portano ad amare più il denaro delle persone e quindi le persone vengono proprio un po' schiacciate nel mondo dello sport utilizzate, manovrate a piacimento proprio per spostare i capitali principalmente. questo è una scatola che forse fa più male. Masticate e sputate come dicevano proprio nello spettacolo. Luca parla di ricchezza, tu ti lamenti come uomo di ciclismo che il ciclismo è debole proprio dal punto di vista finanziario per rapporto alla fatica e alla sofferenza che c'è dietro, però non voglio che tu rispondi comunque alla prima sollecitazione. Buonasera a tutti. Alla prima domanda dico che la parte piacevole dello sport, anche professionistico, è essenzialmente il poter vivere emozioni. Mi fermo più all'attività sportiva di per sé come ex tecnico, ex atleta, più che all'aspetto strettamente manageriale. Dal punto di vista invece più culturale dell'aspetto sportivo sicuramente io lo ritengo comunque ancora una parte portante della formazione personale che dovrebbero avere tutti. Se parliamo invece degli aspetti negativi, quello che non mi piace più di tanto è sicuramente questa estremizzazione del successo a tutti i costi che poi porta al non apprezzare più il gesto tecnico di per sé e di conseguenza arrivare secondi ma aver fatto bene a volte dovrebbe essere equiparato al successo a tutti i costi. Comunque ci si ricorda ormai solo del primo, non più del secondo, nemmeno del terzo e fare quinto praticamente non si rientra più nemmeno nell'immaginario. Da attualmente manager o dirigente o come vengo definito oggi il mio sport è definito relativamente povero rispetto al calcio, molto più ricco di tanti altri. Io sono solito dire ai miei collaboratori quando arriviamo a sistema estremo in cui si batte il chiodo su, ah ma se avessimo, se avessimo, ricordo sempre che stiamo facendo delle corse in bicicletta, non stiamo risolvendo i problemi del mondo ai noi, in parte possiamo aiutare perché sono convinto che la bicicletta sia una soluzione semplice a problemi complessi, però ripeto alla fine noi facciamo corse in bicicletta e quindi la ricchezza è importante è comunque relativa. Enrico. Sì, è un po' difficile adesso passare dal ruolo di cui si gioca, io abbiamo giocato proprio un po' a fare così, ho preso lo sport come stimolo, come ho dovuto prendere qualcos'altro, ma adesso devo parlare un po' seriamente, cerco perlomeno. È davvero difficile oggi nella società definire che cos'è lo sport, questa è la domanda secondo me più difficile perché Daniela ha dato a mio avviso una definizione di sport molto ampia, molto larga, se prendo gli altri due interventi mi sembra che hanno piuttosto focalizzato su quello che tu chiami sport competitivo, ma che io chiamo sport e basta perché noi definiamo lo sport come un'attività fisica con delle regole e fin qui non è ancora sport, competitiva, si vince si perde e fin qui non è ancora sport, gestito da federazioni che determinano poi tutte quelle conseguenze che anche voi avete detto. La federazione rimane piuttosto in ombra, ma è quello che determina, loro solo e soltanto loro possono gestire le competizioni sportive. E dunque, lui mi diceva dai due virtù e due aspetti. Allora, io penso che lo sport non è fatto per avere delle virtù, è un sistema di competizione con delle regole, questo è lo sport, punto a capo, non ha nessun obiettivo di valori e virtù, tuttavia se devo cercare di trovarne qualcuno ha sicuramente virtù estetiche molto più che virtù etiche. Questo per dare un attimino di... non so se basta così, oppure posso continuare magari, poi trovo ancora qualcosina di positivo. Io tante volte penso, se abbia senso, ha senso, comunque puntare il dito contro lo sport e ne faccio una questione di percentuali, ma in fondo le situazioni negative rispetto alle numerose situazioni positive sono degne di essere considerate effettivamente marcanti. È lo specchio della società, viviamo in una società malata in cui ci sono i truffatori, ci sono coloro che molestano, ci sono coloro che creano discriminazioni di tipo razziale, di sesso, di genere, eccetera, eccetera. Insomma, una società in cui si rubano, una società in cui si cercano scorciatoie. Mi chiedo, ma perché lo sport dovrebbe essere virtuoso? Allora, se lo sport è proporzionalmente malato quanto lo è la società globalmente, penso che possiamo metterci il cuore in pace, fa parte dell'uomo. L'antropologia ci dice che c'è una minoranza che è portata alla delinquenza. Mi chiedo, c'è effettivamente una preoccupazione che ci prende, che ci assorbe e che ci porta qui a discutere e che ci porta nel quotidiano a cercare di fare qualche cosa per renderlo meno malato. Non so chi vuole... perché altrimenti prendiamo e andiamo a casa. La società è così, è malaticcia, lo sport ne è una delle sue conseguenze, come lo è, che ne so, un altro, un qualsiasi altro ambito. A mio parere il valore dello sport sta proprio nel rompere questa tipologia di regola. In modo molto complicato si riesce, non sempre, però sono convinto che quando il ragazzino per emulazione imita il calciatore di turno, il ciclista di turno, comunque vedo un esempio positivo, poi sta il calciatore, il ciclista di turno a essere realmente una persona virtuosa al di fuori anche di quello che è l'ambito strettamente sportivo. È ovvio che siamo uno specchio della società, ma credo che l'umanità di per sé non sarebbe progredita se fosse stato tutto così negativo. Poi a me, siamo persone, sicuramente c'è una buona componente di fallimento all'interno dello sport, soprattutto professionistico. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Altrimenti io ho una domanda per Daniela. Io volevo fare un'accusa invece al giudice. Bene. In questo, più che un'accusa è una constatazione, è una considerazione che condivido con te sul piano del nostro essere colleghi come giornalisti sportivi. La comunicazione in questo senso fa tantissimo, cioè l'esaltazione, le epopee sportive, le epopee sportive al negativo, le demonizzazioni. Poi la caduta dell'eroe è un topos clamoroso che si porta avanti e che nel mondo dello sport è fortissimo e che serve per fare i titoli, per prendere i click. e quindi su questo, secondo me, c'è tanta responsabilità da parte della comunicazione giornalistica sportiva. Enrico, vi vi... Sì, mi riguardo proprio all'aspetto della società malata. Su questo penso c'è poco da dire. Le persone che fanno sport, quelle che non lo fanno, ci possono essere di più etici e di meno etici. Ma la domanda è che cosa è richiesto per riuscire nello sport? Questa è la domanda di fondo. Ma nello sport quello, non quello che tu intendevi come sport generale. Lo sport che ho definito io è richiesto la capacità di escludere l'altro, la capacità di metterlo in difficoltà, la capacità di allenare l'aggressività e non in tutti gli sport, però in molti sport, io devo allenare questi elementi e questo non dà di per sé un valore educativo allo sport, ma è piuttosto una capacità di mettere in difficoltà l'altro, che non di aiutarlo, di socializzare, così come siamo abituati a sentire. Poi c'è molta gente che è del partito dello sport e allora c'è una fede, una fede incondizionata nello sport. Uno è un tifoso, un appassionato eccetera e crede formalmente, fermamente scusate, che lo sport abbia delle virtù benefiche. Molta gente lo crede. È chiaro che se vado a passeggio con il cane e lo considero sport, vado in montagna e lo considero sport, questo si sa che sono delle cose che portano soltanto dei benefici, però la capacità di mettere l'altro in difficoltà è un elemento che non appare mai in modo determinante sullo sport. E quando poi si arriva a livello educativo si tende a riprodurre, a demolare quello che vediamo nella società e riprodurre, ma se lo fanno loro, se lo fanno i giochi olimpici, ma ci sarà pure una ragione. L'importante è vincere, non è partecipare. Fulvio ti riconosce in quello che dice lui? Ma quello che è importante è vincere piuttosto che partecipare, sì è chiaro, sta alla base un po' della competizione sportiva. Io sono anche come accusatore chiaramente ok, però no, io riconosco però nello sport dei valori anche secondo me positivi, nel senso che se pensiamo ai ragazzi che praticano sport, ecco nelle ore dove praticano sport non sono a zonzo o in giro per la città, piuttosto che a fare altri tipi di attività magari meno educative, nel senso che lo sport comunque ti porta anche a dover rispettare delle regole e questo è un qualcosa di positivo, ti porta a confrontarti con te stesso, a superare i tuoi limiti e anche questo lo trovo importante, ti obbliga a fare fatica, cosa che spesso magari adesso i ragazzi hanno poca volontà di fare. questi sono i veri valori secondo me dello sport, quelli che sono importanti anche per te i ragazzi e per i quali io consiglio ai ragazzi di praticare dello sport, poi c'è lo sport professionistico o lo sport che non è più sport, ecco quello sì, io lì lo accuso, lo accuso molto, meno lo sport giovanile o amatoriale. Premetto che non mi identifico nel ruolo di giudice, non mi permetterei il modulo più che altro perché in un'ora processare un fenomeno così colossale sarebbe velleitario. Daniela, lo sport esclude, lo sport comunque crea delle gerarchie, lo sport anche a causa del nostro lavoro mediatico, crea delle classifiche, ci sono sport di serie A, di serie B, sport iper miliardari, sport poveri, citavo in un altro dibattito il fatto che per esempio l'atleta più vincente della storia, Simon Nigli Luder, 23 titoli mondiali, pochi credo la conoscano, è un orientista che penso avrà guadagnato il rimborso spese per andare a le gare in tutta la sua carriera, mentre il terzino del crotone probabilmente guadagna centomila volte più di lei. Ma parliamo di donne, sport al femminile, siete massacrate dal sistema. Io ho individuato due discipline in cui c'è una certa equità, lo sci, credo che Schifrin sia star tanto quanto Marcel Hirscher e colleghi e il tennis, Venus Williams e compagnia bella tengono il passo anche a livello proprio di vincite, di sponsorizzazione dei vari Federer Nadal, ma in tutte le altre discipline e lui ne sa qualcosa perché dirige la squadra maschile e anche quella femminile Trex e Gaffredo, la donna è massacrata, discriminata. Tu se ne esce secondo te? Si sta lavorando, anche in questo chiaramente c'è uno specchio della società, cioè la donna che fa sport a livello agonistico, professionistico, fatichiamo a vederla in altri ruoli e è capace di ricoprire più ruoli. C'è una grossa battaglia in questo momento che io ho vissuto e seguito a cavallo tra la professione di giornalista sportiva che io ho lasciato sette anni fa perché questa televisione italiana all'epoca mi chiamavano Rita Levi Montalcini in redazione e gli spettatori mandavano le mail dicendo la scalia deve lasciare più posto alle ragazze più giovani. Non avevo 86 anni, ero stata una giornalista sportiva che si era messa in gioco scendendo dallo sgabello andando a giocare e affrontando delle sfide sportive per le quali sono stata anche seguita ma anche molto criticata. Poi ho fatto un passaggio diventando anche produttrice di una serie televisiva dedicata proprio all'investigazione nel mondo dello sport e quindi tutto l'aspetto del me too e tutte queste cose che purtroppo sono vere, sono reali, non mi piace quando c'è poi l'esagerazione dall'altra parte, non mi piacciono necessariamente le quote rosa. Secondo me una persona deve arrivare perché qualunque sia il suo sesso, la forma nella quale si identifica deve arrivare perché ha dei valori, perché vale, non perché identifica e questo tra l'altro è un altro aspetto anche che nello sport professionistico, quello delle quote è un altro tema abbastanza delicato. C'è questa forma adesso comunque di maggiore attenzione, di maggiore sensibilizzazione per arrivare ad essere professioniste riconosciute perché anche per esempio, che ne so, le pallavoliste che sono molto mediatizzate, che sono molto visibili, che sono anche pagate perché hanno comunque contratti con sponsor e così, ma non sono effettivamente riconosciute dalla federazione, dalla propria federazione come dalle professioniste. c'è stato un caso di recente in Italia di una pallavolista che è rimasta incinta e semplicemente non aveva l'indennità di maternità e sembra assurdo pensarci, no? Cosa faccio? O sono professionista, o sono pallavolista o sono mamma, perché non posso essere in entrambe le cose, con riconosciuti i miei diritti di lavoratrice, visto che quella è l'attività che fai, ritribuita con un contratto, dalla mattina alla sera, sette giorni su sette. Perché poi il professionista, l'atleta, è atleta sette giorni su sette, 24 ore su 24, deve gestire il sonno, deve gestire tutta una serie di cose per cui anche io sono rimasta molto male quando sono stati degli sfoghi, secondo me, legittimi e sentiti profondi quando è arrivata la notizia, la conferma che erano state spostate le Olimpiadi di Tocchio al prossimo anno e ci sono stati degli atleti che sono stati messi in croce perché hanno fatto un'analisi sulla loro condizione, sulla loro situazione personale e è stato detto ma voi non pensate ai morti per Covid. Certo che ci pensano, non sono dei disgraziati, però se io chiedo ad un atleta per la sua specificità, per la sua identità di atleta, cosa pensi dello spostamento di un anno, per un atleta è una cosa devastante e questo secondo me va rispettato e se non si conosce il mondo dello sport, a volte anche stare zitti è una buona cosa. L'effetto valandria, perché quando si apre un dibattito su un tema così si rischia veramente di... è complesso, un babbo vuole bene a tutti i suoi figli in ugual modo, tu curi la squadra femminile come quella maschile o... com'è? Sono due modi diversi, con regole diverse. Scusa, parentesi, su questo aspetto qui anche al femminile rimandare alle Olimpiadi di un anno, vuol dire che magari una donna rimanda di un anno la maternità. Mi riallaccio, noi abbiamo deciso di fare la squadra femminile su fortissima spinta americana, la società per cui lavoro è americana. Non lo nego, ero scettico, non per gli aspetti sportivi di per sé, torniamo al discorso di prima per questioni di budget, perché il budget degli uomini veniva decurtato e si faceva la squadra femminile. Ed era una cosa spinta, chiamiamolo esclusivamente, dagli Stati Uniti per come si diceva il Me Too e quant'altro. Abbiamo creato la squadra, la prima atleta messa sotto contratto era esattamente una ragazza che era stata licenziata seduta a stante nel momento in cui ha detto che era incinta. L'abbiamo messa sotto contratto, abbiamo iniziato un'operazione in due anni per portare tutte le atlete ad avere lo stipendio minimo uguale agli uomini che non rientra nemmeno nei regolamenti federali, perché per la federazione internazionale le donne professioniste devono prendere, non ricordo esattamente, ma 45 mila Euro lordi minimo a stagione, gli uomini 65, noi abbiamo portato tutti a 65 e questa è una parte, mi riallaccio, delle cose buone dello sport, comunque possiamo essere di esempio e siamo l'unica squadra al mondo che lo fa. Detto questo, se poi torniamo dal punto di vista strettamente sportivo ci vuole moltissima esperienza a lavorare con una squadra femminile rispetto a una maschile. Primo per questioni di numeri, il ciclismo è uno sport strettamente maschile, il 95-90% ormai è sempre stato maschile, ma parlo di tutta la struttura, io le prime fisioterapiste donne le ho viste forse 7-8 anni fa in presenza costante, se no erano tutti uomini. Il settore femminile vive di tutt'altre strutture, vengono da un mondo amatoriale, amatoriale nel senso dilettantistico, non amatoriale, deciclamatori, dilettantistico, quindi con gente che prende 5.000 euro l'anno, sponsor personali, quindi non abituati a entrare come la mentalità in una struttura professionistica dove ci sono delle regole dettate dal denaro, di conseguenza ci vogliono persone atte a gestire la squadra femminile perché ne hanno esperienza ma che abbiano la lungimiranza di farle diventare professionistiche, perché comunque il professionismo, lo sappiamo tutti, è un mondo completamente diverso a noi che è lo sport di base. Devo dire che noi ci stiamo riuscendo, quest'anno abbiamo avuto la fortuna di vincere praticamente tutti i ranking internazionali, le ragazze stesse si sono molto adattate al nuovo sistema, però vi faccio un esempio banalissimo, gli uomini viaggiano col pullman, camion e quant'altro per andare alle corse, quando abbiamo imposto alle ragazze di arrivare col pullman alle corse, non lo volevano, no no, ma noi siamo abituati col camper, il camper piccolo da 5, non c'è problema, no, siamo professionisti, se volete essere professionisti, ahi noi nel ciclismo non ci sono i diritti tv da dividere, vendiamo solo immagine, dobbiamo avere una certa immagine e di conseguenza sono problematiche completamente differenti. Devo dire che la cosa, mi riallaccio nel discorso iniziale, che più apprezzo del ciclismo femminile è il fatto che per loro fare ancora terzo è un risultato, fare quinto è un risultato, entrare nei dieci è un risultato, finire la corsa per qualcuno è un risultato, cosa che hai noi nel mondo maschile, dove anche gli interventi economici sono diversi, se non hai vinto sei un signor nessuno, questo è il dramma vero, perché poi mi riallaccio a quello che si diceva prima, esistono le federazioni che mangiano a pari dei governi, qui parlo da italiano, con le tasse, con le imposizioni, il doping della questione etica è diventata una questione di business, l'anti-doping ancora più del doping è diventata questione di business e di conseguenza si entra in quel sistema in cui conti se vinci, il resto è tutta una macchina per gestire, fare e disfare con un sottobosco di persone anche a volte poco raccomandabili, a prescindere da essere poco etiche e si perde poi il piacere di andare e dire ho fatto una bella corsa però ho fatto quinto, nel femminile questo esiste ancora e mi auguro che aumentino gli interventi economici per quanto possibili ma che poi resti questo spirito. Voi avete parlato di federazioni proprio nel vostro spettacolo, rilascio a quanto diceva lui, sono complici, sono corre comunque di un sistema perché penso alle accuse che sono state lanciate proprio in queste ultime settimane soprattutto dalle ragazzine della nazionale di ginnastica ritmica e pare che adesso anche l'artistica si sia agganciata mettendo a nudo alcuni aspetti che sono piuttosto deleteri. In fondo lo sportivo d'elite è obbligato a vincere, non ci sono storie, è bello terzi, è vero magari quando lo svizzero alla ginnastica arriva terzo lo si festeggia perché non è un cinese, non è un giapponese, però l'obiettivo è quello di vincere e per vincere devi fare male a te stesso, devi soffrire magari oltre i limiti che diceva Fulvio della fatica. Le federazioni in un sistema perverso ricevono i soldi da Swiss Olympic sulla base dei risultati che i loro atleti ottengono, se poniamo gli atleti dello sci di fondo una volta uscito di scena a Colonia non ottengono più risultati lo sci di fondo non ottiene più sovvenzioni o ne ottiene molti di meno e quindi giù pressione che possono anche significare ricerca di scorciatoie, far male al proprio corpo. Io mi schiero con voi, in questo senso Enrico non so se vuoi focalizzare questo concetto, lo sport deve veramente ripulirsi moltissima. È stato detto penso da tutti credo prima o dopo, intanto lo sport è un'impresa privata che riceve spesso soldi pubblici, ma nel caso che ricevi tu è un'impresa privata, quindi come impresa privata il suo scopo, si è visto, è quello di far reddito perché altrimenti, e quindi che cosa c'è dal punto di vista dei valori, come facciamo a trovare? Evidentemente sono dei valori sociali, la nostra società è la società del merito, la meritocrazia è premiata, l'eccellenza è premiata, un calciatore che riesce, un ciclista, una pallavorista e sono premiati. Ok, ma perché no? Io non sono contro al fatto di riuscire. E una cosa che non ho ancora detto, nello sport ci vuole molta intelligenza, cosa che non è scontata. Qui siamo tutti d'accordo che l'intelligenza sia di tipo percettivo quando sono attività come una ginnastica individuale, sia di tipo collettivo quando si gioca in un'equipe. E queste federazioni sono spesso delle multinazionali dello spettacolo. Il Comitato Olimpico, la federazione di nuoto americana, muovono dei budget colossali. Quello che sono un po' in dubbio riguardo a quanto dicevi sul mondo dei ragazzini è che le federazioni a cascata fanno ricadere certe pratiche, certe scelte, poi sempre più in basso. Ma tu stesso l'hai detto, tu quando nel tuo libro dici io ho giocato a pallone da quando ho sette anni, quindi vuol dire che hai fatto la stessa, forse che cambiava un po' la dimensione del campo, ma sostanzialmente hai fatto la stessa cosa dai sette anni. Che cosa succede nelle federazioni che fanno ricadere certe pratiche? Un allenatore è pagato per vincere. Le medaglie sono dello sportivo, ma sono poi per la razione, sono delle ricadute che la riuscita sportiva è una riuscita importantissima. I politici di tutti i partiti si fanno fotografare di fronte ai migliori sportivi della loro nazione. Quindi è sicuro che questo aspetto è riconosciuto con qualcosa di importante. Però giù, 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 se l'allenatore non fa successi, non è nei primi 1, 2, 3, poi a dipendenza dello sport, o vi è buttato via, se l'atleta non arriva nei primi 1, 2, 3, vi è buttato via prima dell'allenatore. E dunque questa pratica, io l'ho vista, l'ho sentita, arrivare anche a livelli che non dovrebbero essere così. Poi ci sono degli psicologi dello sport che fanno un bel lavoro, che cercano di influenzare questo aspetto, ma io dico che c'è una logica interna nello sport più forte della logica esterna che può dirti un calciatore, un ciclista, una pallavolista, può essere una persona straordinaria, che aiuta, ma non è mica richiesto questo a un allenatore, a un calciatore, è richiesto di battere l'altro, collaborare per battere l'altro, questo è richiesto. Se noi diciamo no, ma va bene, giochiamo, perdiamo, perdiamo quanto vogliamo, allora facciamolo, ma non mi pare che si stia facendo in questa maniera. No, quello che posso dire è che mi è solo anticipato, nel senso che l'aspetto veramente preoccupante che io vedo ultimamente è che appunto si stanno applicando le stesse dinamiche dello sport professionistico con i ragazzini e questo è inaccettabile. Ci si nasconde dietro a un voler creare talenti, a questo, io parlo adesso del calcio, calcio d'elite, creare sportivi d'elite, ci si nasconde dietro questi concetti ma si sta facendo del male ai ragazzi, del male perché i ragazzi, i giovani, in età magari anche adolescenziale, non possono subire gli stessi trattamenti di uno sportivo professionista. Non posso creare dell'esclusione o creare delle convocazioni nel calcio tipicamente, adesso vedo che i ragazzini si creano delle rose di 20-25 giocatori, però la domenica solo 18 possono andare con la squadra e gli altri 7 vengono esclusi. No, non esiste. Io ne ho parlato anche con dei responsabili del calcio d'elite, gli ho detto ma è proprio così necessario che create delle rose così ampie. Quei 7 ragazzi che vengono esclusi per loro è una mazzata, è una mazzata per uno sportivo professionista, adulto, consapevole, che ha una certa visione del mondo, figuriamoci per un ragazzino che non può la domenica andare con i propri compagni a disputare una partita. No, non esiste. Ecco, tutte queste dinamiche molto preoccupanti, ma beh, poi ci sono altri aspetti, il fatto che nello sport professionistico ci sono questi manager o procuratori che spostano appunto i giocatori da un posto all'altro, adesso questi si trovano anche nel calcio giovanile, quindi questi procuratori che bazzicano i campi dei settori giovanili e con due complimenti a un genitore e un complimento al ragazzino si portano a casa magari un mandato di rappresentanza per questo giocatore, ecco, creando delle illusioni sia nei genitori sia nei ragazzini, perché ecco, il messaggio che io voglio passare col mio libro è che la probabilità di riuscire nello sport professionistico e poter vivere una vita magari di rendita sono infinitesimali, cioè infinitesimamente piccole, come vincere l'euro milioni, io dico, quindi nessuno si deve permettere di illudere né i genitori né i ragazzini nel diventare degli sportivi professionisti di successo. Troppo spesso vedo allenatori o responsabili delle società che non hanno questa visione chiara e commettono solo dei grossi danni. Beh, l'hai detto, creare talenti in sostanza vuol dire creare business, lo scopo è quello, è il tema della selezione precoce che magari purtroppo in determinate discipline è inevitabile, nella ginnastica o cominci, o il patenaggio artistico, o cominci a 4-5 anni e lavori ore e ore e ore, altrimenti perdi e becchi delle mazzolate a livello mondiale. C'è da credersi se poi così importante e necessario primeggiare assolutamente nel calcio, la selezione potrebbe essere tranquillamente rinviata a dopo i 15-16 anni, 17 anni, quando un ragazzo è già avviato anche su un iter, un percorso formativo, perché uno dei temi sul quali batti il chiodo è proprio quello del formarsi. Dici, ragazzi, pensate anche alla scuola, pensate anche a studiare, perché lo sport è, come dicevi, un ambiente che non vi dà necessariamente la pagnotta. Io ho anche un'altra percezione, lo dico a chi sta cercando di sollevare le sorti del calcio, io sono il più vecchio, lui viene dopo, voi siete molto più giovani, ho l'impressione che la situazione stia peggiorando di decennio in decennio. Negli anni 50 non c'era per esempio l'uliganismo, io ho in mente immagini di partite in bianco-nere con le tifoserie mescolate che buttavano in aria i cappelli, si abbracciavano, eccetera. Chi finiva una carriera sportiva anche di altissimo livello, anche nel ricco calcio, metteva da parte al massimo i soldi per aprire un baretto, una boutique. Adesso abbiamo creato dei mostri, cioè mi chiedo come si potrà arrivare a calmerare la situazione e a ridare non solo credibilità ma anche ossigeno, perché abbiamo società sportive indebitate, società ciclistiche che fanno fatica, che annaspano, qui rischia di scoppiare veramente tutto, non so come la vedete voi. Io sono pessimista. Ma io posso parlare, non posso parlare del calcio perché non ho esperienza, posso parlare del mio sport, se si parla dei tifosi il ciclismo è ancora uno sport che unisce fortunatamente e si battono le mani a chiunque passi davanti senza problemi, così come quello che arriva nel fondo al gruppetto. Se parliamo degli aspetti più strettamente economici, noi in questo momento nel ciclismo abbiamo una disparità di interventi economici sulle squadre, il ciclismo è uno sport complesso, poi uno sport individuale ma comunque di squadra, vince uno però corrono in otto per squadra, non dividiamo i diritti televisivi come il calcio, quindi siamo solo supportati dagli sponsor, però viviamo una disparità perché ci sono 4-5 squadre con budget che ormai sono tre volte quelli della sesta squadra e facciamo tutti lo stesso calendario, quindi comincia a essere complicata. Noi viviamo sicuramente quello che tu dicevi, ci sono sicuramente 10-15 atleti nel mondo per generazione, quindi chiamiamo una generazione 7 anni, 6-7 anni, che sicuramente sono equiparabili ai calciatori alla Cristiano Ronaldo, adesso voglio dire, magari Cristiano Ronaldo no, però atleti di elite dove possono serenamente per un paio di generazioni successive non dover più lavorare. La media, ahimè, la media fa fatica ad arrivare a 68 anni e pagarsi la pensione, se non trovo un altro lavoro, ma non sto parlando di aprirsi un'attività, parlo di farsi un altro lavoro. Io ho corridori che ad oggi fanno, uno fa il biatrellista, l'altro fa il barista e compagnia bella. Il nostro trend però, confermo, è anche quello con interventi economici sempre più crescenti, dove si cerca di fare 6-7 anni di carriera e poi devo essere a posto e quindi torno al problema che devo vincere. Per cui non sono negativo, sono un ottimista di natura, ma sicuramente il rischio di finire in questa macchina da soldi in cui tutto va solo in una direzione, c'è, sicuramente c'è. Calmerare le cose non è semplice, non è semplice perché siamo lo specchio della società, viviamo di dualismo, questa società occidentale, quantomeno, non sono un grande esperto di culture asiatiche, però quantomeno nella nostra società viviamo di dualismo. Io devo essere più forte dell'altro. Dissento un attimino di quello che diceva Enrico perché io credo ancora moltissimo nel valore della sconfitta. È vero che io formo, io personalmente formo atleti e hai ragione, anche quando erano juniores cercavo di portare a casa la vittoria, cioè da tecnico non è che stavo lì a guardare facciamo terzi, che è meglio di far primi. Però credo fortissimo nel valore della sconfitta. Saper perdere per un atleta, per un ragazzino, innanzitutto voglio spezzare uno stereotipo, i ragazzini sono i primi che accettano la sconfitta e accettano il fatto che lui è più forte di me. Se voi andate a una gara campestre di atletica, già in partenza sono lì che chiacchierano, quella che vince per le altre è l'idolo perché ha vinto, perché è più forte, punto. Non è che si fanno, non sono allenato a poco, tanti qua di là. E poi esiste il valore della sconfitta, nel senso che la sconfitta è sempre un punto da cui ripartire. Poi quelli capaci ripartono, quelli che non sono capaci normalmente si piangono addosso, la colpa è dell'altro, tu hai le scarpe più belle, quell'altro ha le ruote più gonfie e compagnia bella. Quindi bisogna insegnare a perdere, quello è un valore che è inevitabile così nella vita. Ultimamente a livello aziendale ci sono questi nuovi concetti new age, in cui in realtà la vittoria viene definita semplicemente come la capacità di potersi adattare all'interno degli schemi economici che si muovono nel mondo. Quindi non è più una partita a regole precise in cui io vinco tu perdi, ma è semplicemente in questo momento io sono in grado di sostenere il mercato, essere leader, ma domani sono sotto, ma devo riuscire a mantenere quel livello tale di sopravvivenza per poi ripartire e riportarmi sopra dopo. Quindi c'è l'infinity game con questo nuovo concetto. Difficile da applicare allo sport perché là ci sono delle regole, vinci o perdi, ma è anche vero che noi ragioniamo per la singola competizione, quel singolo giorno di competizione. Io vinco il campionato, vinco la Paris Giroubaix, vinco la partita degli tennis. La realtà dei fatti è che se noi pensiamo a chi sono i grandi atleti di successo, le grandi squadre di successo sono quelle che continuano nel tempo. I fuochi di paglia sono miliardi, atleti talentuosi che si perdono sono miliardi, quelli che arrivano sono un numero ristretto, ma concordo sempre di più che in realtà sono quelli che sono stati capaci di vincere, di perdere, imparare a perdere, ritornare a vincere e crearsi una struttura tale nel corso degli anni, non dell'anno né del singolo game o della singola partita. Credo che ci sono concetti fondamentali. Se vogliamo portare lo sport ha un valore reale, formativo e non vincolato. Ecco se posso, sul valore della sconfitta che condivido, ma dico di più, che è proprio nella sconfitta che un allenatore dovrebbe far passare i messaggi più importanti a dei ragazzi. E invece anche qui, sempre più spesso, vedo allenatori, quindi adulti, che non sanno perdere, che se la prendono con l'arbitro, se l'arbitro clamorosamente sbaglia, io come allenatore, e perdo la partita, come allenatore devo passare comunque un messaggio positivo e ragazzi non posso dargli l'alibi dell'arbitro ha sbagliato e quindi abbiamo perso per quello. Faccio passare comunque un messaggio positivo perché è proprio lì dove il giovane è vulnerabile perché è deluso della sconfitta e io posso far passare dei messaggi educativi e propositivi. Invece si vede sempre di più genitori, ma anche allenatori, che non sanno gestire questo momento. E questa è la cosa più preoccupante di tutto. Tu entri nell'ambito del tema competenze e formazione di chi è chiamato a lavorare con dei ragazzini, spesso sono persone, a volte sono persone che non hanno empatia, che non hanno intelligenza emotiva, che non hanno neppure gli strumenti per comunicare in modo adeguato la vittoria, la sconfitta. Tu lavori con dei ragazzini, lui è un formatore, mi piacerebbe sentire anche voi, perché è un tema sul quale si discute sempre, da anni, ma non se ne esce. Io faccio un piccolo passo indietro, tornando a quello che diceva anche, forse anche Enrico prima, ma comunque c'è questo discorso dello specchio e della società. Secondo me c'è un aspetto culturale che dobbiamo tenere presente, la differenza tra il mondo latino e il mondo invece di cultura anglosassone, che si rispecchia su due cose. Uno sull'eccessiva esaltazione sia della vittoria, sia della sconfitta, cioè vinciamo, siamo i migliori del mondo, ma attenzione, domani è un altro giorno, domani c'è un altro che si prepara per cercare di batterti. E lo stesso quando si perde, non è la fine del mondo. Ma non è che non sia la fine del mondo perché stiamo solo facendo sport, no, attenzione, non è la fine del mondo perché dopo viene un altro giorno. Ed è l'infinity game, secondo me, applicato anche in aspetto culturale. Cioè, se voi guardate proprio anche l'espressività in campo, cioè per noi quello che urla, che si toglie la maglia così, è perché ci tiene. Ma perché Richie McCoy, capitano degli All Blacks di Ragby, della Nuova Zelanda, che fa le sue cose, vince perché hanno detto qualcosa degli All Blacks? Non ci tiene? Perché non urla? Perché non si strappa le vesti? È un modo espressivo che rispecchia una preparazione culturale diversa, una preparazione culturale che abbina lo sport sempre e comunque ad una formazione scolastica, in genere perlomeno di college e poi di università. Ne parlavamo prima a microfoni spenti, diciamo, con Fulvio. Lui ha fatto una scelta per se stesso di continuare a studiare, di portare avanti la sua formazione universitaria. È una cosa che nel mondo anglosassone è normalissima. Da noi invece ci stupiamo se uno sportivo prende una laurea o ne prende due. Da loro è assolutamente normale e a volte magari ti posso ridere perché sono quelli, cioè la reggbista laureata in teologia, ti sembra una cosa un po' in contrasto. Un altro aspetto culturale è anche questo, che generalmente noi vediamo il talento un po' come colpo di fortuna, no? E non qualcosa su cui poi si studia, si costruisce, si studia il proprio corpo, si studia la propria fisiologia e non riconosciamo all'atleta una capacità di uso dei neuroni o addirittura di presenza dei neuroni. Cioè tendenzialmente uno muscoloso, se ci pensate, guardando la struttura fisica, vedi uno muscoloso, non ti dà l'idea che possa essere anche tanto intelligente. Cioè ci sono delle, cioè c'è una forma un po' di iconica che immediatamente ci fa pensare questo. Un aspetto culturale ancora, riporto sempre per esempio al mondo del rugby che a me mi ha influenzato molto perché ho poi iniziato appunto a guardare il mondo anche lo sassone in maniera diversa. In Italia e comunque alle nostre attitudini, quando pensate a un reglista che tipo fisico vi viene in mente? Generalmente uno grosso, un po' con la panza, no? Pelato, con le orecchie a cavolfiore, lo scoccio così. Quella è l'incarnazione del luce. E' così. Perché? Perché l'uomo maschio forte si è traslato a questa forma di macismo, no? Perciò in Italia in realtà il rugby è arrivato nello stesso periodo che in Francia, ma dove ci sono state le dittature e i nazionalismi, le dittature di destra, il rugby è caduto per questa forma di iconica, no? Dell'uomo macio, tra l'altro non si chiamava più rugby, ovviamente era la palla ovale, ma Spagna, Portogallo, Germania. La Germania ha vinto le Olimpiadi nel 1924. E l'Italia naturalmente il rugby è rimasto indietro di 70-80 anni. I regbisti in Inghilterra sono poi quelli che hanno studiato a Oxford, a Cambridge, sono quelli che sono diventati poi dirigenti delle multinazionali, mentre da noi ancora si immagina quello che, scusate l'espressione, si mangia i panini con la porchetta e beve birra e ha questa figura abbastanza truce, diciamo. E quindi il cervello e lo sport sembrano andare in direzioni diverse, quindi culturalmente si crea veramente questo problema. E nell'insegnamento poi ai ragazzi, anche le persone che non hanno avuto una formazione specifica, chiaramente poi cadono nei soliti dei comuni. Io non porto l'orologio, non ho idea di che ora sia, di quanto abbiamo fatto. 20 alle 6. Come? 20 alle 6. E poi vedo che comunque c'è un'attenzione da parte del pubblico e chiedo a padrone di casa, possiamo considerarti così, cioè sei tu che ci ospiti, se era previsto anche che il pubblico potesse interagire. Sarebbe carino se qualcuno... Io ho ancora una domanda relativa alla mediatizzazione dello sport, perché effettivamente è complice di un circolo vizioso la stampa. Cioè la stampa crea miti perché i miti creano soldi, i soldi vengono reinvestiti per creare nuove storie, nuovi miti. Io ricordo per esempio un atleta a noi molto caro, Fabian Cancellara, che era sempre incazzato con il blick, il blick. Poi aveva mal di pancia, il blick l'aveva. Cancellara, il bauxmertz. Cioè andava a raccontare tutto a loro perché, perché il blick è il blick, perché il blick è la tiratura, eccetera. È un po' un circolo vizioso dal quale è difficile uscire. Però non so se vuoi replicare ancora sulla responsabilità di noi rappresentanti dei media o ex rappresentanti, oppure se mandiamo la palla... Ma posso dirvi semplicemente che, come hai detto tu adesso, c'è un gioco delle parti necessariamente e che fa comodo a tutti. Fa comodo allo sponsor, fa comodo allo sportivo, fa comodo al manager, fa comodo alla federazione e dall'altra parte il giornalista ha bisogno di scrivere. Soprattutto appunto in questo periodo in cui sempre di più contano i click e quindi si cerca anche la stupidaggine, però quello che si è montato i cerchioni in lega sulla Ferrari nuova, anche quello, le foto esclusive, fai click anche con quello, insomma. A voi. Prego. un po' un po' di osservazioni. Da dove viene poi lo sport, le olimpiadi? Vengono da una serie di discipline grecche, giusto? Cosa, lancio del gioco, è lotto, lotta, non ne so. Cos'erano queste discipline? Erano quelle che preparavano il soldato alla guerra. Quindi se voi parlate di competizione, voi parlate in realtà di guerra, lo sport oggi, null'altro è che questo rito che si perpetua. Io, allievo al liceo, vengo scelto per la tuba militare dopo l'esame di ginnastica. Era così, salevi bene le corde e ce l'hanno più il nostro attore. Sono del 54, non mi sembra di parlare di una vita fa. Che bello lo sport, sì, è vero. Però, parlo di esperienza personale, uno che si occupa d'arte. Nell'arte le leggi sono identiche a quello dello sport. Perché solo il migliore costa in live di quello. Tutto il mondo, Jeff Koons, parliamo di questi modelli, loro guadagnano, gli altri no. La cultura è esattamente nella stessa situazione del sport. Perché ambe due servono chi? La comunicazione. Servono la comunicazione. E servono nella comunicazione quello che è il consumo. Mai una società è stata conformista come quella contemporanea. Perché non c'è più il Dio è morto, lo diceva Nietzsche. Le nazioni nessuno sacrifica quindi più la vita per la nazione. Abbiamo i simboli che sono sport. Al consumo nessuno rinuncia. Si parla di sonno, di mestieri. Siete in quattro o in cinque a dibattere. C'è uno sportivo e gli altri vivono dello sportivo. Ecco, questo è un elemento curioso. Un altro elemento che ricordo sempre esperienze personali. Nessuno qui ha parlato di una cosa. Siamo in Svizzera, siamo santi. Va bene? Vi dico due esempi banalissimi. Mia moglie era brasiliana. In quanto brasiliana ogni tanto ci chiamavano. Nel Belinzona giocava un ragazzino che veniva da una squadra brasiliana portato al Milan. Dal Milan prestato al Belinzona hanno chiesto. Siccome mia moglie parlava portoghese e brasiliana potete invitare la cena, fargli passare la setta normale. Dormiva nell'albergo, non lo so, quello di Belinzona solo. All'Unione. All'Unione. Un ragazzino di 16 anni che da quando ne aveva 12 era in giro. Un altro esempio. Federazioni. Che bravi uomini, donne. Ma se vince solo il migliore. C'è lo sport dove uomini e donne competono assieme. L'automobilismo. C'è stata anche una pilota se non sbaglio. Negli altri no. Anche l'equitazione. Sì, no. No, ma che competono assieme dove se io fossi una donna straordinariamente capace nel calcio, perché ho detto non posso giocare a una scuola maschile. Quello fosse un punto da... Se il terzo di una squadra non guadagna che è un centesimo del primo, ma allora è anche logico che le federazioni femminili guadagnino meno. Una donna a pedalare mica avrà la velocità di un uomo. Ha più muscoli l'uomo. Dunque, vedete che tutto rientra in una logica. Allora un altro esempio. Federazioni sportive. Vi dico anche quale. Un ragazzino con un handicap leggero che fa il tiro dell'arco. Questo è un handicap leggero. La mamma nota in vacanza che lui quando tira l'arco sta dritto, gli fa bene, gli dà entusiasmo. Anche è bravo lui perché era handicapato. Lui si concentrava bene così. La federazione del tiro con l'arco non l'ha preso perché lui è un pericolo. Capito? Lui è un pericolo. L'ha preso un gruppo privato di ragazzi, di adulti che vanno in giro e non ha mai causato un danno. Però la federazione ufficiale non l'ha preso. Allora, se io ripenso alla mia vita, parliamo di intelligenza nello sport. Certo che Maradona, Pelé, Hamilton, questa gente sono intelligenti. L'intelligenza è un plus valore, capisci? Che ti porta a realizzare dei risultati, che ti porta a sviluppare certe cose. Però dobbiamo ammettere la cosa, lo sport non sviluppa l'intelligenza, lo sviluppa sono certe intelligenze. Non c'è nessuna disciplina dove la mente viene annullata, annientata come la lezione di ginnastica. Un tamburello e tu ti muovi esattamente come quello che è stato dicendo. E se tu non ti muovi così, vieni penalizzato. Giusto? No, 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 era così, era così. Non è più così, no. Non cambia il mondo, non cambia nello sport, non cambia lo sport. Una cosa ancora, quando tengo nel teatro i consigli eliminatelo, quando voi in ultimo fate il proclamo alzate il pugno. Sbagliate. Perché il comunismo sfruttava lo sport, all'estremo, esattamente come il legalismo americano ha sfruttato la pittura del popolo. Mi sembra che... Prego, prego, prego. Forse su questo io, a parte riguardo alle ore di educazione fisica nella scuola, non credo siano più così. Su questo mi permetto di dissentire. Ma per tutto il resto io sono molto d'accordo, se non che dal punto di vista della politica non abbiamo parlato. Lo sport ha messo d'accordo tutti i sistemi politici, gli ha messi d'accordo. Ha messo d'accordo le democrazie, ha messo d'accordo il liberalismo sfrenato, ha messo d'accordo i totalitarismi. Lo sport è stato, andava bene per tutti questi elementi. Poi ci possiamo riflettere sul pugno alzato e su questi simili. Questo avrei, citerei a dirlo, sia in difesa di un cambiamento che c'è a livello di pratiche sportive e, brevissimo, sulla cultura. Lo sport tende ad essere una pratica che vuol riunire in sé tutte le dimensioni ludiche a livello mondiale e sono invece una parte, una minima parte di ciò che avviene nel mondo come attività della fisica che potrebbe essere enorme. Ma si tende, come McDonald's tende a farci mangiare tutti allo stesso modo, lo sport tende a decidere quali sono le pratiche fisiche sportive che tutto il mondo dovrebbe praticare. Lo sport si è legato al consumo. Il consumo ha contento a qualsiasi nostro bisogno, giusto? basterebbe quanti sport ci sono. Si è diventato di tutto, anche tirare la boccetta è diventato uno sport pagato. Ogni anno si inventano nuovi sport tende, ognuno ha il diritto di competere nel suo ambito. Poi, siamo contro il lavoro giovane, ma anche qui ci si rende conto che i bambini, i bambini, i nostri figli, fin dalla più tenere età li educhiamo a quel tipo di competizione. Perché i genitori, andate sul campetto di calcio a vedere i ragazzini che tutti il sogno è verificato, tutti il sogno è verificato, tutti il sogno è diventato qualcuno, come qualsiasi ragazzo che va all'Accademia e sogna diventato qualcuno. Ma non è così uno. E vediamo quello che ha detto da un calciatore. C'è uno su tanti. E quello che li guadagna, li merita. Perché dal profilo consumistico che Valentino Rossi guadagna le cifre all'anno, li merita perché lui che è un indotto... Per non pagare le tasse. Li merita per non pagare le tasse. Perché l'hanno accusato per quello. Per non pagare le tasse sono bravissimi tutti. No, ma voglio dire, lui che è un indotto, 10.000 persone che vanno in circoslovacchia, che spendono alberghi e tutto il resto, che rilavoro a chi deve parlare di lui. In Italia ci sono 3-4 giornali quotidiani che parlano solo di sport. Pensate alla capacità di trasformare lo sport in dossi, analisi. C'è dentro tutti quei giornali. Sono veramente il simbolo di tutto quanto. Le posso chiedere di asciugare un po', perché per lasciare spazio eventualmente a repliche o anche a altri. Io tra l'altro sono suo coetaneo. E sulla ginnastica 50 anni fa sono perfettamente d'accordo con lei. Guardi, io le prime lezioni le ho fatte con un certo Arturo Gander, che non solo ci dava il ritmo con il tamburello, ma quando non funziona ce le dava sulla testa. Però adesso è un altro mondo. Ha ragione lei quando parla da un punto di vista antropologico delle origini delle Olimpiadi, la preparazione alla guerra. Oggi sa qual è il paradosso? Che gli sportivi non fanno il servizio militare, ma vengono aiutati e vengono protetti, pagati, esonerati. È proprio un mondo alla rovescia. Un po' passatista. Lì mancano le università in Apeca, mica vanno gli ascoltiati. Vengono presi per dare il prestigio all'università. Lì la cosa che non funziona in quel discorso c'era perché il fatto di esaltarsi per la vittoria non è qualcosa di europeo, è qualcosa che viene da oltre altri. Da oltre oceano? Da oltre oceano? No, assolutamente no. Anche lì non ci siamo perché se c'è un mondo dello sport in cui… Io prima evocavo gli anni cinquanta quando le tefuserie insieme, eccetera, in America succede così. Vanno allo stadio per divertirsi, si abbracciano. Poi è chiaro, hanno magari una teatralità diversa rispetto alla nostra, ma assolutamente loro hanno molto da insegnarci. Che dire, le derive dello sport sono numerosissime. Io sono convinto che se quel ragazzo avesse insistito, quello del tiro con l'arco, con un avvocato, eccetera, l'avrebbe vinta. C'è stato il caso per esempio di Oscar Pistorius che è arrivato veramente a un'unghia dal poter partecipare da disabile amputato ai giochi olimpici, quelli dei cosiddetti normodotati. E lì sono stati cavilli giuridici, però io ho l'impressione che i problemi oggi siano diversi. Giustamente lei parla della comunicazione, se ne parlava. Noi stiamo vivendo l'epoca dei social in cui c'è un'accelerazione spaventosa. A me che sono 66 anni fa anche un po' paura. Siamo confrontati con un'incapacità di comprendere anche un messaggio breve. Con un analfabetismo strutturale che porta le persone a essere disorientate. Ci sono le fake news. Sono state fatte le votazioni in America due settimane fa. Ancora oggi non sappiamo se il presidente eletto è Biden oppure no. A me sono queste le cose che spaventano. Poi lo sport lo assolviamo, lo condanniamo. Siamo coscienti che è portatore di molti valori negativi. Lei ne ha sottolineati parecchi. Ma ce ne sono anche di quelli buoni, credo. Sai qual è la più grande fake news dello sport? Della storia dello sport? È che De Coubertin non ha mai detto che l'importante è partecipare con l'intento di dire nonostante si va così all'apifero. No. L'importante è partecipare con lo spirito giusto. Partecipare con la possibilità di vincere al meglio delle proprie capacità. Perché lui l'ha detto in un momento storico particolare. Lui l'ha detto dopo essere stato in Inghilterra a vedere il sistema didattico dei college. Dopo che la Francia nella guerra franco-crussiana le ha prese. Parigi è stata messa a ferrofuoco. Per lui era stato un marchio di vergogna tremendo. perché non aveva visto la propria nazione pronta a far fronte al nemico a testa alta. Quindi la trasposizione sportiva e qui veniamo ancora sempre a queste figure retoriche legate sempre alla guerra. Allora a me televisivamente nelle telecronache quando sento parlare squadre in trincella così le metafore di guerra non mi piacciono. Lo dico chiaramente perché si vanno a toccare dei temi che secondo me devono stare in un altro contesto perché sono chiaramente delicati e possono essere molto dolorosi. Quindi non ci dobbiamo dimenticare però da dove viene lo sport che è quello che c'era brevemente all'inizio dello spettacolo. Cioè l'uomo ha sempre giocato. L'uomo si è sempre sfidato nel portare un oggetto da una parte o dall'altra del proprio villaggio. ci sono ancora questi giochi tradizionali anche in Scozia e cose del genere. Cioè quindi la violazione del territorio. e poi sono nate le federazioni che hanno portato a una codifica dei vari sport. Ma all'inizio era un po' come giocare in cortile. Cioè ci guardiamo intorno, ok, quanti siamo qua stasera? E cosa abbiamo a disposizione? Il sotto, il sopra? Abbiamo una palla, ne abbiamo due? Ci inventiamo le regole. Quando giocavano, quando si incontravano tra paesi, tra nazioni, quando facevano anche i tour, per esempio in Australia e in Nuova Zelanda, si incontravano i capitani. Questo è anche l'importanza del capitano. Perché è così importante il capitano? Perché i due capitani delle squadre si mettevano d'accordo su quali regole giocare. L'arbitro è venuto molto dopo. Di conseguenza lo sport necessariamente ha questa idea di sottomissione. Però la cosa fondamentale sono le regole. Io non conosco bene il mondo dell'arte, però qui vince il migliore secondo alcune regole. Poi che a volte vengano taroccate o accompagnate in altri ambienti, non si capisce molto bene quali siano i parametri per i quali uno è più bravo o meno. Io se vado all'Uvra a guardare la Gioconda dico, boh, mi piace di più guardare le nozze di Cana di Paolo Veronese, che mi sembra una roba clamorosa per stare nelle stesse stanze. sull'arte moderna che non capisco un cavolo. Chiudo. Io non so se c'è qualcun altro che vuole intervenire dal... Prego. Se posso preoccupare di finalmente perché ho visto tutto il pubblico pubblico della serata, un pubblico postino e il pubblico per il loro senso che ho trovato bellissimo e pubblico per questa discussione. Io mi trovo piuttosto da quella parte, malgrado la mia formazione e professione, ci sarebbe tantissimo da dire. Mi piacerebbe che io una serata come questa, in fondo venisse proposta a un pubblico più ampio, adesso dico nelle nostre traduzioni televisive, ogni tanto ci ripropongo nel Covid per la 200 millesima volta, magari si potrebbero una volta in piacere, una serata di questo tipo di tempo. C'è stato presente delle cose giuste e bellissime da parte di tutto, si è parlato un po' poco di Covid... Doping. Doping. So più. E proprio magari nel ciclismo, così dicono che noi come professionisti che lavoriamo in quel senso, ogni tanto ci sono trovati giovani, promettenti atleti che o lo fai oppure la tua carriera è finita. Pertisco benissimo quanto ha vissuto Sormoni nella sua carriera, penso che le federazioni che sono state così criticate, la prima federazione sono i genitori, i genitori che accettano di portare dei bambini di 5, 6, 7, 8 anni scarrozzare tutto il ticino per 14, 15, 16 ore di allenamento in tanti sforzi, una cosa che non mi sta più dire. D'altra parte, e anche qui stasera non se ne ha parlato, io definito assolutamente non lo sport, ma la necessità di praticare attività fisica e lì forse dobbiamo imparare anche, a mio asseppo che fino alla terminologia, la parte della società di medicina dello sport, che non si chiama più così ma sfungere il nome, ha messo proprio il movimento dell'attività fisica come base. io, un medico dello sport, vedo un atleta delit e poi quando lo vedo sulla agenda dico ok, e poi per rispondere a vedere il settantenne, l'ottantenne o il quindicenne che magari ho visto che deve fare l'attività. dunque penso che forse questo stasera non è venuto fuori, non era nemmeno tutto, e forse ho voluto ancora raggiungere l'IPI, l'istruzione preparatoria, che era qualcosa di legato assolutamente all'attività. grazie a lei, capisco effettivamente, io volontariamente non ho voluto entrare nell'ambito del doping perché era specifico e parlavo di derive generali, poi essendoci in sala un uomo di ciclismo, oltretutto arrivato con un iter particolare, Luca Guercilena non è l'ex corridore diventato direttore sportivo, ma viene da una formazione universitaria come, diciamo, laureato in scienze motorie, e quindi ha portato anche un'altra mentalità, avremmo fatto un processo alla persona sbagliata. L'unica me, tu ti deve... non ho... ho sempre parlato molto apertamente di problematiche relative al doping e all'antidoping, quindi non ho... però è un problema complesso che necessita una serata, probabilmente solo di quello. Abbiamo, io spero, acceso qualche lampadina, qualche sguardo critico in un fenomeno che è complesso, che è controverso, che è discusso, che può piacere, può non piacere, nella consapevolezza che ci sarebbe da dibattere per mesi, per anni, per tentare di magari limitare i danni che lo sport può anche fare e per esaltarne invece i pregi che può portare, soprattutto se si va nella direzione che diceva Daniela in partenza, che diceva il dottore proprio pochi minuti fa. Io ringrazio voi per l'attenzione, direi quasi commomente, con cui ci avete seguito. Ringrazio gli ospiti, Daniela Scalia, Luca Guercilena, Fulvio Sulmoni, Enrico Ferretti, Tiziana Arnaboldi che ci ha ospitato e buon rientro. E Giancarlo, Dio Lidio, grazie mille. Dio Lidio, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.